Guido ci ha lasciato ieri sera per unirci alla sua amata Irma. Fino all'ultimo, un'invincibile passione politica, in difesa della Costituzione e la rappresentazione democratica del Parlamento, lo ha sostenuto. Che il suo esempio ci conduce? Una preghiera. Questo è ciò che noi leggi sull'account Twitter di Guido Bodrato. L'ex deputato e ministro della DC sono scomparsi ripetutamente ieri-ieri all'età di 90 anni. Minchino ha un grande maestro di buone politiche. Intere generazioni di cattolici democratici si sono formati e si formeranno comunque seguendo esempio, condividendo il suo esempio il pensiero e profondo europeismo. La sobrietà della vita e del parlare. Grazie, è il ricordo dell'ex segretario del Partito Democratico Enrico Letta.